Cardiologo ucciso a Favara, arrestato un uomo. Ferito alle spalle con un colpo di fucile ad aria compressa. Manutenzione nelle scuole, interrogazione di Bruzaniti e Petrantoni. Fondo ripresa a Sicilia, 36 milioni alle imprese che investono nell'isola. Endometriosi conoscerla per affrontarla. Bentrovati. Cardiologo ucciso a Favara, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni. Mi servivano dei documenti per ottenere il rinnovo della patente. Il dottore Alaimo mi prendeva in giro e rinviava continuamente. Con queste parole, Adriano Vetro, 47 anni di Favara, incensurato, collaboratore scolastico e impastato anche in servizio presso un istituto di Caltanissetta, avrebbe confessato di essere l'autore dell'omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, 65 anni, specialista molto noto nell'agrigentino. Vetro è accusato di omicidio premeditato e portabusivo di arma. In questo momento si trova nel carcere di Agrigento, dove è stato trasferito dopo l'interrogatorio del procuratore Salvatore Vella. L'indagato avrebbe raccontato che da tempo chiedeva al medico il rilascio di un documento indispensabile per il rinnovo della sua patente di guida, rendendosi disponibile anche a subire un intervento chirurgico pur di avere il certificato. Al diniego del medico l'uomo avrebbe estratto la pistola, uccidendolo. Ma la versione di Vetro non convince gli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, il presunto assassino, che era un paziente di vecchia data del cardiologo, sarebbe arrivato nel centro medico prima dell'apertura. Lì c'erano soltanto le segretarie, mentre i pazienti si trovavano ancora all'esterno. L'uomo si sarebbe avvicinato al medico, da lì sarebbe scoppiato una lite e lo sparo diretto al petto del professionista che è morto sul colpo. I carabinieri sono riusciti tempestivamente a identificare l'uomo grazie proprio ai racconti dei testimoni che lo conoscevano come paziente storico del medico. Intanto le indagini della procura di Agrigento e dei carabinieri continuano per fare definitiva chiarezza sulla vicenda. Ferito alle spalle con un colpo di fucile ad aria compressa. Indagano ora i poliziotti del commissariato di Canicattì. A 24 anni il ragazzo del Gambia, che è stato soccorso in piazza Roma a Canicattì in provincia di Agrigento, è trasferito all'ospedale Barone Lombardo. L'esame radiografico al quale il giovane immigrato è stato sottoposto ha confermato che nella schiena aveva un piombino. Il brutto episodio si è verificato nella notte fra domenica e lunedì. Sulla vicenda intanto sta indagando la polizia del commissariato cittadino. La natura della vicenda è avvolta nell'ombra. Non è chiaro infatti per quale motivo contro il giovane siano stati esplosi dei colpi con una carabina ad aria compressa. Secondo quanto riferito dallo stesso 24enne ferito sarebbero stati alcuni ragazzi, ma su questo non c'è alcuna certezza investigativa. È stato lo stesso ragazzo poco prima della mezzanotte e mezza a chiedere aiuto alla polizia dicendo di essere stato colpito alla schiena da un fucile ad aria compressa. Le volanti del commissariato sono giunte sul luogo e hanno facilitato il trasferimento del ferito con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso. I medici hanno subito sottoposto il giovane a tutti gli accertamenti sanitari del caso, fra cui un esame radiografico che ha confermato la presenza di un piombino nella schiena. Il ragazzo non è stato dichiarato in pericolo di vita ed è stato tenuto sotto costante osservazione. Il lunedì all'alba il 24enne però si è allontanato spontaneamente dal presidio ospedaliero e ha fatto perdere le sue tracce. La polizia di Canicattia ha tempestivamente iniziato la ricerca del giovane immigrato, cercando anche di capire il perché in piazza Roma qualcuno gli abbia esploso dei colpi di fucile ad aria compressa contro la schiena. Manutenzione nelle scuole della città, interrogazione dei consiglieri comunali Bruzzaniti e Petrantoni al Sindaco Gambino. A presentare un'interrogazione consigliare sugli interventi di manutenzione realizzati negli istituti scolastici della città a Palazzo del Carmine sono i consiglieri di Fratelli d'Italia, Gianluca Bruzzaniti e Salvatore Petrantoni. Ci spinge a presentare questa interrogazione mia e del collega Todi Petrantoni, il fatto che diversi genitori ci segnalano quotidianamente le carenze all'interno degli istituti scolastici, aule in cui comunque vi sono infiltrazioni d'acqua, infissi problematici, crepe all'interno delle mura e quindi abbiamo voluto attenzionare questa vicenda perché ricordavamo e bene ricordavamo che in approvazione di bilancio vi era una buona disponibilità per questo intervento. Abbiamo effettuato anche all'interno degli istituti scolastici dei sopralluoghi e abbiamo evidenziato le diverse problematiche. Ad oggi quel capitolo è rimasto intatto, quindi non è stato completamente utilizzato a detta dell'assessore in commissione perché non si può mai sapere quelle somme a cosa potrebbero servire in futuro e quindi noi abbiamo ad oggi delle scuole pericolanti e delle somme assolutamente stanziate per quegli interventi completamente inutilizzate. Il 2022 è terminato e quindi ci troviamo con un'amministrazione che ha preventivato delle somme e degli interventi per il 2022 ma che non le ha realizzate e non ha utilizzato le somme. Abbiamo chiesto replica sul tema a cui l'amministrazione ha scelto di rispondere in sede istituzionale. Ci saranno due mesi di tempo in più per inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19. Un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che sposta il termine per l'invio dell'autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023. E quanto si legge sul sito dell'Agenzia, il termine di presentazione dell'autodichiarazione inizialmente fissato al 30 giugno 2022 era stato prorogato dal 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento. Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati dall'invio dai propri assistiti che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell'accesso al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Fondo Ripresa Sicilia. 36 milioni alle imprese. IRFs gestirà il Fondo Ripresa Sicilia di 36 milioni alle imprese che investiranno nell'isola. L'IRFs, società in house della regione siciliana, in seguito all'accordo firmato dal suo presidente Giacomo Gargano e dall'assessore alle attività produttive Edith Amaio, è stata incaricata di gestire il Fondo Ripresa Sicilia. Il fondo agevolativo è finalizzato alle concessioni di finanziamenti in favore di piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di spesa nell'isola. Per l'attuazione della misura sono destinati 36 milioni di euro e l'asse di intervento è indirizzato alla realizzazione di investimenti che favoriscono l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la riconversione di siti produttivi. Sono previste agevolazioni tra finanziamento a tasso zero e a fondo perduto sino al 75% dell'investimento per programmi di spesa tra 500 mila euro e 5 milioni. L'accordo, afferma l'assessore D'Amaio, si inserisce in una rinnovata intesa con l'assessore all'economia Marco Falcone che mira a rilanciare l'attività delle imprese siciliane attraverso iniziative studiate appositamente per il tessuto imprenditoriale locale, in particolare quello delle piccole e medie imprese, volte a incentivare progetti integrati di ricerca, innovazione, sviluppo della competitività e internazionalizzazione che, come sappiamo, costituiscono le principali leve sulle quali occorre puntare. Torniamo a parlare di Sicilia e delle meraviglie dell'isola d'inverno tra Etna, Madonie e Innevate, centri storici addobbati a festa per il Natale, bontà gastronomiche e patrimonio archeologico che si può visitare tutto l'anno. È in programmazione sulle emittenti televisive nazionali lo spot della regione siciliana che suggerisce di visitare la nostra isola anche nel corso della stagione invernale. Si tratta della campagna di fine anno realizzata dall'assessorato regionale al turismo per promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici e gli incentivi previsti dal programma Sì i Sisili. Varato dal precedente governo regionale è valido fino a settembre 2023 che prevede sconti su pernottamenti e trasporti per chi sceglie di trascorrere almeno tre notti nell'isola. La campagna TV appena avviata si inserisce in un più ampio programma di promozione per un budget complessivo di circa 7 milioni di euro. Come rivestita? Colpevolizzazione della vittima. E' questo il titolo dell'incontro che si è tenuto all'Istituto Rapisardi di Caltanissetta all'interno di quelle che sono state le iniziative contro la violenza sulle donne. All'Istituto Tecnico Commerciale Mario Rapisardi si è tenuta una due giorni contro la violenza sulle donne dal titolo Il linguaggio e gli effetti sulla percezione dei ruoli nella società. Tenutosi ieri all'Istituto di Viale Regina Margherita e come rivestita colpevolizzazione della vittima tenutosi oggi all'Istituto di Via Filippo Turati. Si è cercato di far capire ai ragazzi il messaggio del valore e il rispetto della donna e di essere contro ogni forma di violenza sia fisica che psicologica. La scuola ovviamente è aperta al territorio, è la scuola che ha come mission, come vocazione quella di incidere sul territorio e ha quello di promuovere la sensibilizzazione contro i meccanismi, gli stereotipi che portano poi alla violenza sulle donne in questo caso, ma portano alla stigmatizzazione del diverso. Gli episodi di violenza di genere e violenza domestica che segnano con frequenza la cronaca quotidiana sono degli episodi che sono il sintomo di un disagio sociale che non è riconducibile a determinate situazioni economiche, religiose, culturali o di appartenenza etnica, ma toccano trasversalmente tutto il tessuto sociale. Il fenomeno della violenza di genere è un fenomeno complesso dalle mille forme e per questo richiede degli interventi dalla parte della Polizia di Stato sia tramite una mirata attività repressiva che preventiva. A chi possiamo rivolgerci se non agli studenti e quindi al luogo deputato alla formazione, alla cultura proprio perché la violenza è un fenomeno culturale, per cui è necessario incidere sugli studenti, appunto sugli alunni e sulle alunne di oggi che rappresenteranno e formeranno la società di domani. Riteniamo che sia importante per poter combattere il fenomeno della violenza di genere è quello proprio di partire dai ragazzi per contrastare e per cambiare questa mentalità di disuguaglianza che spesso viene tra uomini e donne, di stereotipi che ancora purtroppo sussistono anche nelle giovani menti. Il questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, ha incontrato gli studenti del liceo classico linguistico e coreutico Ruggero VII di Caltanissetta in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La Polizia di Stato da anni porta avanti la campagna permanente contro la violenza di genere. Questo non è amore che mira a sviluppare maggior consapevolezza in tutta la cittadinanza, così si legge in una nota divulgata tramite social e in particolare nelle donne sul pericolo di certi comportamenti che spesso vengono anche tollerati. Ci sono equip di investigatori, psicologi e membri di associazioni che tutelano le donne che forniscono notizie, sostegno e aiuto a chi decide di sottrarsi ad un mondo di brutalità che spesso coinvolge anche i bambini. Parliamo adesso di endometriosi. Conoscerla per affrontarla, questo il titolo, della conferenza e dibattito che si è tenuta all'interno dell'aula magna del Consorzio Universitario Niseno, il servizio. L'endometriosi è un disturbo che rende il ciclo mestruale veramente insopportabile. Troppo doloroso da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane, da impedire una normale vita di coppia, da diventare quasi un'ossessione per molte donne. La paura di avere l'endometriosi è sempre più diffusa per coloro che soffrono di dolore pelvico ed è spesso anche la diagnosi che è errata quando non si trovano altre soluzioni. Per approfondire meglio questa patologia si è tenuto un incontro nell'aula Leonardo Sciaccia all'Università di Caltanissetta organizzata dall'APE, associazione progetto endometriosi portata avanti da Chiara Catalano, referente regionale APE, dove sono intervenuti medici ed esperti in materia. Sono una volontaria dell'associazione Progetto Endometriosi APE, che è un'associazione nazionale che opera sul territorio nazionale da più di 17 anni e il nostro compito è proprio quello di informare e sensibilizzare sulla patologia. L'endometriosi è una patologia ancora troppo sommersa, molto insinuosa e devo dire invalidante e quindi noi organizziamo questi eventi per far luce su questa malattia e dare consapevolezza a noi donne soprattutto per spiegare quali sono realmente i sintomi e spero non per altre donne ma un domani potersi riconoscere e quindi cercare di evitare una diagnosi tardiva che ancora purtroppo ad oggi c'è e va dagli 8 ai 10 anni. Parlare di una malattia sconosciuta, di una malattia che purtroppo non è rara come noi pensavamo perché tocca non meno del 10% della popolazione femminile, forse anche di più che molto spesso i sintomi non sono facilmente riscontrabili e quindi ci sono anni in cui questa malattia non è neppure latente, esiste ma non viene riconosciuta come tale. Abbiamo in questo senso fatto una legge alla regione, la scorsa legislatura, io sono stato il primo firmatario ed è una legge che istituisce adesso due centri di riferimento in tutta la Sicilia, una a Catania e una a Palermo affinché sull'argomento e quindi la stessa malattia possa essere impattata e riscontrata in modo più multidisciplinare e molto più efficiente di quanto non si facesse in passato. Questo messaggio di questo convegno sarà quello di informare con estrema chiarezza quelli che saranno i punti salienti che prima di tutto la diagnosi precoce perché spesso c'è un ritardo della diagnosi insopportabile a volte anche di anni. E poi l'altra cosa importante è vedere quale approccio bisogna seguire con la terapia, cioè non bisogna sempre operare, 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 bisogna anche trattarlo e stabilirlo con la donna e inserire in questo contesto i due elementi importanti, uno la fertilità e l'altro è il dolore, la gestione del dolore e quindi della sua qualità di vita. Giovedì nella giornata internazionale di lotta all'AIDS Casa Rosetta terrà un incontro sul tema sfide e opportunità nella pratica del trattamento dei disturbi da uso di sostanze. Relatori saranno il professor Roberto Cauda, direttore del Dipartimento di Sicurezza e Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore della divisione Malattie Infettive dell'Ospedale Gemelli e il professor Gabriele Sani associato di Psichiatria nel Dipartimento di Neuroscienze dell'Università Cattolica. L'incontro si svolgerà da remoto in webinar internazionale con traduzione simultanea dall'italiano all'inglese e dall'inglese all'italiano. Controlli della Polizia su strade del territorio. Invito agli automobilisti per prevenire gli incidenti. Il servizio. La tutela e la sicurezza stradale sono da sempre un punto fondamentale dell'azione quotidiana delle forze dell'ordine. È in questa direzione che la Polizia di Stato quotidianamente è impegnata nelle più importanti arterie stradali extraurbane con gli strumenti di controllo della velocità per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti di velocità al fine di prevenire gli incidenti. Gli attuali limiti di velocità da rispettare sono 130 km orari in autostrada, 110 in caso di maltempo, 110 km orari sulle strade extraurbane principali, 90 in caso di condizioni climatiche avverse, mentre il limite è di 90 km orari sulle strade extraurbane secondarie e locali. Nelle città, invece, il limite di percorrenza è di 50 km orari, 70 in alcuni tratti espressamente segnalati. Le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 142 del Codice della Strada vanno da un minimo di 42 a 173 euro in caso di 10 km orari oltre il limite consentito a un massimo che va da 544 a 2.714 euro di multa oltre 40 km orari e non oltre 60 km orari, con decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Chiunque superi di oltre 60 km orari i limiti massimi di velocità, infine, è punito con una sanzione pecuniaria compresa fra 847 e 3.389 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva nell'arco di un biennio, inoltre, è disposta la revoca della patente di guida. Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali. È stata pubblicata la graduatoria per l'assunzione di 311 istruttori e operatori del mercato del lavoro. Si tratta dell'ultima delle graduatorie approvata e pubblicata a cura del Dipartimento regionale, della Funzione pubblica e del personale per il reclutamento di 537 funzionari di categoria D e 487 istruttori di categoria C per il potenziamento dei centri per l'impiego della Sicilia. Scatta dunque l'assunzione a tempo pieno e indeterminato con profilo C per i 311 istruttori amministrativi sui complessivi 355 risultati idonei. La posizione in graduatoria è stata determinata dal risultato della prova scritta sommato al punteggio dei titoli di studio e di servizio. All'assunzione dei 311 vincitori si provvederà con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato di categoria C. Parliamo adesso di Rosso in piazza. Letture teatrali con una massiccia partecipazione da parte della popolazione studentesca nissena al progetto culturale e formativo. Il servizio. Molti gli studenti presenti oggi per Rosso in piazza letture teatrali. Il progetto culturale e formativo che ha fatto vivere un'esperienza immersiva nei luoghi della città di Caltanissetta. Gli studenti e anche i docenti hanno indossato delle cuffie audio per ascoltare i brani nelle novelle di Pier Maria Rosso di San Secondo. Iniziativa promossa dalla Lantalighieri di Caltanissetta presieduta da Marisa Sedita. Di intesa con l'assessorato alla cultura di Caltanissetta e con il coinvolgimento del regista Aldo Rapè. Proprio Rapè ha incontrato gli studenti nelle scuole medie e superiori della città nella sede del parco letterario per pianificare e realizzare le attività nelle settimane precedenti. Abbiamo voluto quest'anno portare Rosso in piazza e per questo abbiamo affidato tutto il lavoro al regista e attore Aldo Rapè che ha ripreso i testi delle novelle, li ha rivissuti insieme agli alunni, drammatizzati e portati prima in seno alla biblioteca Scarabelli poi qui in piazza. Per noi è motivo di soddisfazione perché vogliamo finalmente che tutti quanti si rendano conto dell'importanza della novellistica e della drammaturgia di Rosso. Un itinerario che come prima tappa ha avuto la biblioteca Scarabelli, poi la casa natale dello scrittore in via Lincoln e infine in piazza Garibaldi, un tempo sede del palco della musica che Rosso ricorda nella novella Banda Municipale del 1954 e ancora Villa Medeo. Secondo i critici fu proprio lì che lo scrittore ambientò un mazzo di dalie. Abbiamo scelto di tentare di far ascoltare i brani, le novelle sono belle perché ci aprono immagini, ci aprono delle sensazioni la volontà anche di fare questo lavoro in cuffia con il microfono un po' il boom cinematografico era proprio quello di non lavorare sulla spettacolarizzazione dell'evento ma lavorare sui suoni, sulle immagini che Rosso ci restituiva. Ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti, non lo sappiamo, ho visto ragazzi molto interessati, ragazzi un po' distratti ma va bene così, io dico che qualcuno a casa se l'è sempre portata. Infine la Dante Lighieri pubblicherà il bando di concorso per il premio di cultura dedicato a Rosso di San Secondo rivolto agli studenti. Cambiamo argomento, parliamo adesso del giovedì santo, è stato eletto il nuovo presidente dell'associazione ed è Arcangelo Giammusso. Eletto il nuovo presidente dell'associazione del giovedì santo è Arcangelo Giammusso che succede al presidente uscente Roberto Morgana, è incarica dal 2014 al 2020 e poi con la proroga dell'incarico di altri due anni durante il periodo della pandemia. Giammusso, 23 anni, imprenditore, nipote del tipografo Michele Alloro, uno dei decani del giovedì santo che fu già presidente della stessa associazione. Il giovane ha da sempre nutrito una vera e propria passione per la tradizione del giovedì santo tramandatagli dal nonno fin da subito e per la vara dei tipografi la condanna. Due i candidati che hanno partecipato all'elezione, oltre a Giammusso, anche Giuseppe Botta, figura storica della settimana santa, presidente della Lega San Michele, presente al momento anche il primo cittadino di Caltanissetta, Roberto Gambino, che ha partecipato a questa assemblea, visto che anche il comune della città è socio dell'associazione perché detiene la vara del Sinedrio. Arcangelo Giammusso, nuovo presidente, per i prossimi tre anni, conterà anche sulla collaborazione dei due vicepresidenti, Roberto Morgana, presidente uscente, Alessandro Barrafranca, ad essere tesoriere dell'associazione Antonio Amico e segretario Giuseppe Polizzi. Giammusso stesso ha ringraziato tutti i soci ed ha anticipato che il nuovo anno sarà dettato su un percorso all'insegna di innovazione rispetto della tradizione. Parliamo adesso di calcio. Verso San Cataldese Catania, attesa per la partita in programma domenica al Valentino Mazzola di San Cataldo. Fervono i preparativi per San Cataldese Catania in programma domenica al Valentino Mazzola di San Cataldo per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D. La società Verde Amaranto fa sapere che in seguito alle direttive pervenute dalla questura di Caltanissetta che garantirà l'ordine pubblico, ai tifosi del Catania verrà assegnato il settore gradinata con 1.500 biglietti disponibili, mentre ai tifosi della San Cataldese la tribuna coperta e la curva. Indetta la giornata Verde Amaranto, quindi per accedere allo stadio pagheranno anche gli abbonati, ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni. La San Cataldese, che domenica scorsa ha pareggiato a Vibo Valencia, vuol ripetere l'affermazione sugli etnei in Coppa Italia, ma il campionato, si sa, è un'altra cosa e il Catania capolista solitario del girone arriverà a San Cataldo per portare a casa l'intera posta in palio. Sembrano esserci tutte le premesse per assistere a una partita di alto livello, non solo sul piano tecnico, anche su quello agonistico. Battere il Catania per la San Cataldese sarebbe soprattutto una questione di prestigio. Si prevede un esodo massiccio da Catania. Quasi certamente saranno riempiti tutti gli spazi previsti per i sostenitori etnei, che finora hanno seguito la squadra del cuore, ovunque. Intanto, dopo l'ultima affermazione sulla Cireale, il tecnico Ferraro predica massima concentrazione. Il Catania non si può mai distrarre, perché al di là che il Catania l'abbiamo sia la società, sia i tifosi, sia il direttore Lanier e tutti quanti noi. Noi la classifica non la guardiamo, bisogna solo dal martedì alla domenica, pensando solo che il Catania possiamo vincere le partite. Per questo le classifiche diciamo che davvero non le guardiamo, ne io come allenatore, perché non è questa né la società, né il pubblico e neanche la stampa che possiamo pensare. che il Catania sta con tanti margini sulla seconda, bisogna mai abbassare l'asticella, bisogna sempre stare molto concentrati, soprattutto c'è una rosa importante che oggi abbiamo dimostrato, pensate che oggi hanno mandato quattro over, hanno mandato in tribuna, cioè non è facile gestire questo gruppo di calciatori. Io come allenatore vorrei poterli farli giocare tutti quanti per farli ancora più partecipi, però il Catania questo vuole, bisogna essere tutti quanti concentrati e soprattutto di dare il contributo quando veniamo chiamati. Parliamo adesso della Nissa, primo allenamento per la squadra Alto Maselli dopo la collocazione del nuovo manto sintetico. Primo allenamento della Nissa Alto Maselli dopo la collocazione del manto sintetico. si respira aria di nuovo nello stadio di Pian del Lago, certamente più consono di una squadra di calcio che rappresenta un capoluogo di provincia, con una tradizione calcistica di lungo corso. Giocatori e tecnico hanno avuto modo di svolgere il primo allenamento in un clima di festa. C'è soddisfazione per il ritorno nell'impianto che in passato ha ospitato anche partite del Palermo, in Serie B e del Catania in C, oltre all'indimenticabile Italia Croazia Under 21 e alla straordinaria promozione in Serie D della Nissa Stellare di Luca Mannino nel 2008. Uno stadio che ha fatto da cornice anche alla visita del Papa nel 1993. Insomma, il Tomaselli si è ritagliato nel tempo, uno spazio importante nella storia di questa città, non solo sportiva. Anche se per molti il Palminnelli rimane il campo dei trionfi più belli legati alla Nissa che militò nell'Interregionale in Serie C. Ricordi sbiaditi che si coniugano a fatica con le condizioni attuali del campo sportivo di Viale della Regione, ormai inadeguato da tutti i punti di vista. La Nissa, archiviata la vittoria sul Resuttana San Lorenzo, si prepara la trasferta sul campo della Leonfortese, squadra che lotta, denti stretti, per la permanenza nel campionato di eccellenza. Partita insidiosa per Marna e compagni, chiamati ad una prova di carattere per conquistare un risultato positivo. Il debutto dei biancoscudati sul manto sintetico del Tomaselli è previsto domenica 11 dicembre alle ore 15 contro il Mazzara. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Buon proseguimento. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, la vortice mediterranea, attualmente presente sul sud Italia, tenderà lentamente a portarsi verso la Grecia, favorendo un miglioramento, anche se già un'altra perturbazione tenderà ad avvicinarsi al nostro paese sul finire del giorno. Ma vediamo la grafica della nuvolosità, che ci mostra come gran parte dei settori idriatici, in parte anche il nord, ma soprattutto il sud, siano alle prese con le nuvole, solo qualche pausa soleggiata attesa sulla Sicilia, poi anche sui settori tirranici al nord-ovest, mentre da fine giorno tenderà a peggiorare nuovamente sulla Sardegna per avvicinarsi di quest'altra perturbazione. Infatti, osservando anche la mappa delle precipitazioni, notiamo come residui fenomeni sono attesi sul basso versante adriatico, sui settori ionici e dal pomeriggio qualche piovasco, anche a sfondo temporalesco, potrà interessare la Sardegna. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta nel corso di giovedì sull'Italia, una giornata nel complesso soleggiata al nord-ovest, sui settori tirranici, in parte anche sulla Sicilia, mentre una maggiore presenza nuvolosa è attesa sui settori adriatici, con qualche pioggia, come dicevo anche prima, specie sul basso versante adriatico sulla Puglia, la Basilicata. Dal pomeriggio tenderà a peggiorare anche sulla Sardegna e sul finire del giorno sul Triveneto, da segnalare anche qualche banco di nebbia che non mancherà sulle zone di pianura del nord. Clima che resta particolarmente ventoso al sud, ma anche sull'adriatico per correnti di Bora e Grecale. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, Eufrate, via Filippo Turati Servizio notturno, Pantano, via Domminzoni Cultura Servizio diخ Ciao